L'8 marzo è il giorno in cui si misurano i passi compiuti dalle donne verso un'effettiva parità e quelli che restano da fare. Durante la pandemia le donne hanno pagato il prezzo più alto in termini di posto di lavoro, andati persi 376.000 in meno e il tasso di occupazione del 51,9% resta uno dei peggiori se confrontato con la media europea del 62,7%. Pesano i divari territoriali e il confinamento in alcuni ambiti. Le donne continuano ad essere soprattutto insegnanti, commesse, impiegate, medici e operatrici della sanità. Sono appena un quarto dei dirigenti e degli imprenditori e il 39,7% di chi svolge una professione tecnica. Nella pubblica amministrazione le donne rappresentano il 58,8% del totale degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, ma nelle posizioni apicali sono solo un terzo. Inutile dire che le regioni con il maggior tasso di occupazione femminile si trovano al nord e sono quelle che hanno i servizi per l'infanzia più sviluppati. Per quanto riguarda le giovani donne, il nostro paese detiene un record europeo negativo. Le italiane, tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano, sono bene il 25%. Infine, secondo un'analisi dell'osservatorio in difesa di Terz des Hommes, oltre il 50% delle giovani italiane ritiene che le scelte riguardo agli studi futuri o alla carriera lavorativa siano ancora limitate da stereotipi e retaggi maschilisti.